era giorno ed è subito sera era pranzo e ora è cena e questa è la vita del pigro inoperoso perdi tempo eppure ha anche dei difetti ho scelto la parola elogio alla pigrizia penso che la pigrizia sia fondamentale nel processo creativo perché ci aiuta a sconfiggere la terrificante pagina bianca